Benvenuti in Senauto, questo è il futuro! Tutto questo può essere tuo a partire da 99 centesimi con PFF22, promo film flex. La nuova proposta esclusiva di Senauto. Sali a bordo! Il viaggio comincia da qui. Telefona subito al numero in sovraimpressione oppure scrivi a info.seinaauto.it per organizzare un incontro illustrativo in totale sicurezza senza impegno. Allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo! Grazie a tutti!